Assunte in Enel Club come ragazze immagini, venivano avviate alla prostituzione. Alcune di essa, all'epoca dei fatti, erano minorenni. L'indagine, denominata Operazione Tacco 12 della Squadra Mobile della Questura di Torino, era iniziata nel marzo 2017 e ha portato la reclusione in carcere di tre persone e una quarta agli arresti domiciliari. Ad illustrare l'operazione, questa mattina, venerdì 23 marzo, è stato il dirigente della Squadra Mobile Marco Martina. Tra le molteplici attività che sono state scoperte nel corso delle indagini, ovviamente sono state individuate delle condotte che facciano rispondere a questi soggetti del reato di sfruttamento della prostituzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Questi condotti ovviamente sono stati valutati dall'autorità giudiziaria e sono stati messi di provvedimenti rispettivi. Quanto costavano queste prestazioni? I prezzi variavano ovviamente, parliamo da 150 euro in su e questa è la dazione di denaro che poi in parte tornava a chi gestiva la ragazza, faceva scartare l'accusa, la pesante accusa assolutamente. Chi erano queste ragazze e perché la facevano? Giovani ragazze con piccoli o grandi problemi che comunque speriamo adesso possano affrontare un nuovo percorso. E come è stata scoperta questa indagina? Una iniziale informazione ha portato le forze di polizia sulla buona strada, poi singole verbalizzazioni, alla fine intercettazioni, telecamere, pedinamenti hanno consentito di chiudere il giro che era stato individuato. Che è successo ai locali ora? Uno è sequestrato, un altro ha cambiato denominazione, c'è un'altra gestione e l'altro ancora invece ha avuto un problema e non c'è più. Ma è stato uno dei clienti che ha denunciato? Le informazioni iniziali ovviamente possono aggiungere da clienti, dal web, da fonti aperte, da una serie di attività che possono essere condotte dalle forze di polizia. Poi bisogna trasformare queste informazioni iniziali in fonti di prova ed è per questo che ci sono le intercettazioni e le attività condotte dalle forze dell'ordine. Si parla anche di una madre, l'ho letto nell'appunto stampa. Ovviamente poi mano a mano venivano individuate, soprattutto per la parte dei minori, anche soggetti che potessero fornire informazioni più dettagliate. Per questo ci siamo mossi. Quanti sono i minori coinvolti? Tre. Da quanti atti seguite i ritagini? Quasi un anno. Ma c'è una mamma che ha segnalato i servizi sociali, mio figlio fa queste cose, aiutatemi a abbracciarla? Ci sono una serie di attività che sono state condotte e ovviamente su questo aspetto di come nasce ovviamente non manteniamo un piccolo riservo. Grazie. Intercettazione. Il capo, che era Iemmo, il gestore. Capo? Questi nomi.